Ciao, io sono Gio, io Previo, e dopo il grandissimo successo della prima puntata, ragazzi, primo video, 112 visualizzazioni, assolutamente coltroni più rosina aspettativa, rosina, cioè ragazzi, Dunque, avevamo tre potenziamenti da spendere, e voi ci avete nominato, ci avete suggerito molti giocatori, e per non fare un torta a nessuno abbiamo deciso di sorteggiarli, qua, subito, davanti a voi! Allora, siccome siamo anche noi un po' ignoranti, non siamo stati capaci di registrare il browser della Play, quindi dobbiamo fare il sorteggio da computer, in questo sito andremo a mettere tutti i giocatori che ci avete suggerito nei commenti, che tutti insieme così sono una bella botta di ignoranza. E il sito ce li restituirà in un ordine casuale. I primi tre di questa lista saranno i tre estratti del sorteggio. Procediamo. Ok, quindi i tre upgrade di questo nostro secondo episodio sono Caracciolo, Scozzarella e, vai brevio, Calaioe. Perfetto, perfetto, fantastico, come lo dici questa odanese. Torniamo su FIFA. Eccoli qua ragazzi, Calaioe, il Caracciolo, il Caracciolo e Scozzarella, abbiamo tolto Daisy perché non ci stiamo un po' sul cazzo. Questa è la formazione e, come ogni episodio, adesso andiamo a giocare due partite, quindi mi porta il nostro sorridente all'altra. Ci vediamo alla partita. La bella soffetta di naso. Si gioco così, prima di una partita la bella soffetta di naso. Eh sì, io sono un po' senza lezioni. 3, 2, 1, si parte. No, 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 no. Attenzione al tiro, Lukaku! Oh. Calaioe, 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 Calaioe. Caraccio! Calaioe! C'è stato Antonio? Se entrava questa ragazzi, se fosse entrata per gli amici italiani. Si, in-cham! Ma quale fallo, dai, in-champate! Canto diti? No, in-champate! No! Ragazzi, in-champate! No, questa è quella... Però, dovevamo fare spazio. Ragazzi, qua a Cassano, veramente. Se ti faccio un filtrante qua dentro, ci entri? No. Prendi il sito, prendi quello lì, vai via e se no... Ecco, adesso qua rientro. Ragazzi, il nostro schema è fatto proprio cagare. No, invece era bello. Ops! Ma non aveva più fatto la cigolata, era... Dunque, il nostro avversario è quittato ancora. Non ci prenderemo il rage quit, perché non è un rage quit. Non ci sembra neanche giusto finirla con zero punti, perché magari un gol con Cassano avremmo venuto anche farlo. La regiochiamo. Quindi questo episodio eccezionalmente avrà tre partite. Giocheremo una partita per uno. Incredibile ma vero. La prossima partita la gioco io. Vedremo con che risultati. E l'ultima la farà a breve. Seconda partita. Non è possibile. Ma non sta giocando, credo, lui, sai. Non l'avevo visto nessuno. Un chum. Un chum. Un chum. Svegliato una legnata che l'avvero vuole. Sì, sì. Si vede comunque quando gioco io che l'avversario è completamente schiacciato. Perché si è girato di là? Perché hai calciato il cuore? Hai mancino? Penso di sì, sennò sarebbe non sanno di me. Calaio. Calaio. Gioele Power. È possibile. Cioè poi è già stato giocato un altro sordo cieco. Senza voler fare ironia sui sordo ciechi, però. Credo che le sue prestazioni a FIFA sarebbero più o meno così. Ciao a tutti gli amici sordo ciechi. Esatto. Che tanto non ci stanno sentendo e le vedendo. Ciao. Alla fine. L'ultima l'ultima volta. Guarda. Vai, vai, vai. Ma questo è stato fatto. Lo spero. Eppure è davvero sordo cieco. No, no, no. Capisci? Cosa devo fare? Che tiki tocca. Che tiki tocca. Che tiki tocca. Caraccio, caraccio, caraccio. C'è mezzo calaio. Hanno guettato un'altra volta. Però stavolta la contiamo perché era evidente che per quanto inspiegabilmente fossimo 0-0. Cioè meglio questo si spiega col fatto che stavo giocando a due. Credo sia evidente a tutti che almeno un gol entro la finale avrei fatto. E' terza e ultima partita. Ragazzi, nella seconda partita è scaduto il contratto a Calaio e abbiamo rimesso in attacco Manai al suo posto. Per risparmiare, mi ha preso uno conto di contratto. Vabbè. E fieni il microfono? Mettimelo tu. E sto giocando. Guarda che stavo a metterlo in orecchia. Ok. No, no, che schifo. Cassano la mette giù. Gli ha visti in mezzo. Caracciolo! Caracciolo! 1-0 Caracciolo! 1-0 Caracciolo! L'airone! E ringraziamo Gala di Sovico che ce l'ha consigliato. Crescenzi. 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 Gira di là per Manai. Manai, 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 Manai. Ne supera 1. Cassano, Cassano. Cassano, Cassano! Fatta Antonio 2-0! Fatta Antonio 2-0! E l'ignoranza con Tima. Gol di Cassano. Gol di Cassano. Grandissimo gol di Cassano. Esce Ballotelli scuro e involto. La rida Cassano che lancia Manai. Manai, 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 Manai. Manai, a destra Mancino. Ok, non è Mancino. Ragazzi, che gol di Marchesi. Caracciolo. Manai, Manai, Manai. Manai! È un gol fantastico! È un gol fantastico! 3-1! E finisce qua, ragazzi! 3-1 meritato! Andiamo anche a vincere la divisione 8. Ragazzi. Io già vi ringraziamo per aver assistito a questo nostro secondo video. Quanto alla lavagnetta, abbiamo ancora una volta 3 update, grazie al Ragequid e alla vittoria con gol di Cassano. Prima di salutarci, però, una brevissima nota tecnica. Per favore, inserisci i suggerimenti dei giocatori come risposta a un commento che lasceremo all'uomo. Sarà facile individuarlo perché ci sarà scritto qualcosa che vuoi. E eccomi sono io, sono il commento a cui rispondere o altre cose simili a prova di idiota. Questa cosa aiuta noi a trovarli più in fretta ed è anche una garanzia per te in modo che non rischiamo di perderci il tuo suggerimento in mezzo a tutti gli altri commenti. Grazie. Io, se posso permettermi, vi suggerirei di fare un giro su FUTED e andare a leggere i commenti sotto la scheda di... Ciaramitaro. Ciaramitaro e Troianiello. Ragazzi, Troianiello lo dobbiamo prendere. Non dico altro, ma... Se vi è piaciuto... Lasciate un bel like. Alla prossima. Alla prossima.